Welcome back da MaxBlack, siamo su Code World of War 2, oggi ci troviamo su London Dogs, mi raccomando lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, vediamo come va, siamo su Recluta, uccisione confermata, vediamo come va, ho fatto delle discrete partite, quindi ho deciso di registrare un po', comincio benissimo, ho cominciato alla grande, una bella uccisione a cacchio. Vediamo come va, perché comunque ho preso il gioco da poco, questa è l'arma che ho portato più avanti in assoluto, cerchiamo di sentire i passi dei nemici, quello qua, qui c'è un tizio, addio, oddio, oddio, certe volte rimango incastrato, vediamo di andare nel loro respawn, io invito sempre a mettere un mi piace, mi raccomando, consigliatemi qualche classe e poi io farò lo stesso con voi, vi consiglio qualche bella classettina carina. Vediamo se qui c'è qualcuno, invado il loro respawn, qui c'è sicuro qualcuno, attenzione, sento un delirio devastante. Cavolo, cavolo, oh mamma mia, non so come li ho uccisi questi due, ma li sono trovati addosso, però è andata abbastanza bene. Vediamo se qui c'è qualcuno, non so dov'è il loro respawn. Credo che sia cambiato il respawn, quindi... Crepa, crepa, cagna, tua mamma è una cagna, prendiamo l'aerospia, chiamiamo l'aerospia. Ok, ne ho qualcuno di questi maialoni davanti, andiamo di qui, vediamo solo... Camper schifoso. Camper schifoso, camper schifoso. Tua mamma è quello che non si può dire, quindi andiamo avanti e lasciamo stare la madre del tizio che è poverina. Non c'entra niente, però anche la mamma di questo non è male, devo dire. Vollo di ricognizione concluso. Ok, andiamo da questo lato, ho capito che da questo lato è meglio andare con estrema cautela. Ma come a cavolo l'hanno fatto ad andarci dietro? Attenzione, qui è morto qualcuno, attenzione amico. C'è quel tizio camperato, lo so. E lì. Ok, ucciso. C'è qualcuno qui. Crepa, molto bene. Recuperiamo targhette, ok, non rubate, però l'importante è che la prendono quelli nostri. Oddio! No, no, potevo ucciderli tutti e due, che spreco, mi ha spinto però, ho fatto assist, mi ha spinto quello mio, peccato. Attenzione, qui, ho ucciso quello mio. Cioè, quello mio ha fatto un'azione veramente edita. Spero che sia... Che sì, me la faccio vedere alla fine! Che morte idiota che ho fatto. Oh, ammazzato a questo maialone. Attenzione, sentiamo un po' i rumori, non è facile fare in live perché comunque i passi sono importantissimi. Insomma, sentite che mira che c'ho veramente, una mira proprio... Faccio i complimenti da solo. Naturalmente era ironico perché era una mira di merda. Non sento nessuno. E questo io mi preoccupo quando non sento nessuno perché vuol dire che c'è un mega camper. Ok, ucciso. Ok, abbiamo di nuovo l'aereo spia. Accendiamolo subito. Qui più che mai gli aereo spia sono super utili. Ok, ottima uccisione. Perché... Guardate quel tizio come stava camperando. Meno male che qui l'amico l'ha ucciso. Bella questa, maledetto camper. È piaciuto. Sono un amante di uccisore di camper. Vai. No, no, no. Non so se l'ho ucciso. Mi stanno bombardando. Fuggo. Oppure i mortai. Attenzione, ora appena finisco questa serie li tiro. Mamma mia, ne ho ammazzati i tre con la cosa. Subito mortai. Li tiro come viene e mi hanno ucciso. Purtroppo non ci posso fare niente. Appena ho queste serie di uccisioni dove le devo tirare io personalmente. Si crepa alla grande. No, pure da dietro. Forse uno l'ho beccato. Credo di sì. La regia ci dice che l'abbiamo ucciso. No, che schifo. Ma che ho sparato? Non vedevo nessuno. Ho sparato alla cieca. Eccolo. Lo puscio, lo puscio. Dove è andato? Eh, ma mi ha pusciato lui. Dovevo lasciarlo stare. Ma come che non è morto? L'ho sparato nel petto. Attenzione, amici. C'è un camper. Crepa. Ah, no, no. Lo dovevo prendere in testa. Peccato. Peccato quei mortai. Non sapevo dove tirarli. Perché comunque qui sono infilati tutti dentro le casette. Quindi colpire con i mortai diventa abbastanza complicato. Attenzione, qui ne ho visto uno. Eccolo qua. Non ha... Volevi, volevi, fregami. Ah, un dio mi ha fregato lo stesso. Non era lo stesso tizio di prima. Quel tizio camperava come un cornuto. Bastardo. Io sono un amante di uccisione di camper. Io anche se faccio un'uccisione... L'importante è che è un camper. Cioè, ho fatto una tripla con la bouncy betty. Ah, ah, ah. Voi direte, perché mi sono messo la bouncy betty? Perché io subisco troppi colpi con la bouncy betty. E quindi... Voglio che gli altri subiscano la mia stessa sorte. Muori. Cosa volevi fare, butto porco? Cosa volevi fare, maiale? Che non sei altro. Adesso mi faccio anche i tuoi amici. Mi faccio. Mi voglio fare. No, ancora quel tizio là. È una vergogna. È una vergogna. Proprio tua mamma... Proprio sa fare dei bei lavoretti. Quindi noi conosciamo da questo in poi l'arifizio lì. Ha una bella mamma. Dietro, dietro qualcuno mi... No, guardatelo lì dov'è. All'angolino. Che schifo. Che schifo. Che schifo. Attenzione, è ancora lì. E ho paura proprio di quel tizio. Una buona gara, amici. Allora, mi raccomando. Mettete un mi piace. Iscrivetevi. E ci vediamo con il prossimo episodio. Di questa bellissima partita che abbiamo fatto. Mi raccomando.